Sarà difficile per Lenders portare la sua squadra alla vittoria avendo di fronte un portiere portentoso come Benji Price. Atton basse il calcio d'inizio della ripresa. Mi raccomando, state pronti! Da quanto! Devo riuscire a tutti i costi a prendere la palla e passarla al capitano. Gli dobbiamo togliere il pallone, non devono superare la metà campo. La squadra della Muffet sta andando quasi al completo verso Atton e Baker che avanzano verso la metà campo. Intervento di Yale, poi di O'Neal, Sta a Reeves, ma Atton si libera e passa a Baker. Ancora ad Atton, non riescono a fermarmi. Continua ancora l'intervento della Muffet sui due giocatori della New Team. Prendete la palla e passatela al capitano. Ok! Nonostante i numerosi sforzi, la Muffet non è riuscita a togliere il pallone a Baker e Atton che continuano a passarselo. Il pubblico a essere fatto e stupito per la rapidità e precisione dei passaggi dei due attaccanti della New Team. Bravo, Ollie! Dai, Tom! Dai, Mark! Fagli vedere come si impara a correre consegnando i giornali! Muoviti, Landers! Avanti, corri! Non startene lì impalato! Un altro intervento di O'Neal su Atton che lo scatta! Avanti, dobbiamo fermarli! Stavolta la palla è mia! Bravo, Oscar! Metti in pratica il pressing! Non concedergli neanche un attimo di respiro! Che maledizione! Siamo bloccati! Non possiamo avanzare! Atton e Baker continuano a mantenere il possesso della palla! Attento, Tom! Avete visto? Hanno cambiato completamente tattica rispetto al primo tempo! La Muppet ha chiuso le marcature su Atton e Baker che non possono muoversi anche se mantengono ancora il possesso della palla! Dobbiamo prendere il pallone e passarlo a Mark! Ce la farò, accidenti! Devo riuscirci! Intervengono contemporaneamente tre giocatori della Muppet su Baker! E adesso non ce lo toglierete più! La Muppet è riuscita a prendere possesso della palla! Non è giusto! Non è stato leale! Ora vi faccio vedere io come si fa a riprenderlo! Prendi il pallone, Olly! È tutto tuo! Intervento di Morris su Ale! Ok! Il gioco è di nuovo la new team con Atton! Che scatti in avanti! Oh no! Riuscirò a fermarti, Atton! Ti do una mano, corrati! Ehi, le Reeves cercano di raggiungere Atton! No! I due della Muppet intervengono in scivolata sul pallone! Ma il capitano della new team lo mantiene sollevandolo in alto! Allora, Mark, vuoi muoverti o no? Bel salto, Olly! Accidenti, Olly! Stai attento! L'Enders si è mosso dalla sua posizione e corre verso Atton! Sticca un salto! L'Enders riesce a togliere la palla a Atton! Oliver! Oh, mio Dio! Ora il gioco è alla Muppet con l'Enders che avanza velocemente verso la porta avversaria! Attento, Mark! Non provare a tirare ancora da fuori aria! Sai che non riuscirai a segnare da quella distanza! L'Enders è sempre più vicino alla porta di Price! Mark è riuscito a prendere la palla finalmente! Bravo, capitano! Dai, andiamo a dargli una mano! Bene! Dai, forza, ragazzi! Forza, Mark, corri! Fagli vedere chi sei! Segna un bel gol! I miei amici sono venuti da molto lontano per tifare per me. Io li ringrazio. Come ringrazio gli altri tifosi della squadra. Sono tutti qui per assistere alla mia vittoria e a quella della Muppet. E non posso assolutamente derunerli. Forza, Bruce! Dobbiamo assolutamente fermarlo! Vieni anche tu, Charlie! Non deve passare! Eccomi! Continua l'azione in avanti di Lenders mentre Harper, Denver e Custer gli si fanno incontro per ostacolarlo! Sono sicuro di una cosa, Daisy. Lenders ripeterà la solita azione e proverà ancora a tirare da fuori aria. Che testardo quel ragazzo. Alle spalle di Lenders vediamo schierata quasi per intero la Muppet a corsa a sostegno del suo capitano. Passaggio indietro di Lenders! Accidenti! Perché l'ha fatto? Stuppa la pallamello! Cosa vorrà fare? Intanto Lenders continua a correre verso l'area di rigore avversaria. Danny, vieni qui! Sì! Chissà cosa avrà in mente. Maledizione! Hanno lasciato quei due completamente smarcati. Forza, fatevi sotto! Ragazzi, non lasciate che Lenders prenda la palla! Va bene! Tre giocatori della New Team cercano di ostacolare Mello! Non riuscirete a fermarmi. Devo passare il pallone a Mark ad ogni costo. Mello continua a dribblare per mantenere il possesso della sfera. Non ce la farete a portarmela via. Brava! Sono riuscita a liberarmi di quei rompi scatole. Ora non mi resta che crossare verso Mark. Avanti, Danny! Lancio di Mello che supera gli avversari e va diretto verso Lenders il quale scatta in avanti pronto a prendere il pallone. Lenders aggancia in aria. Price si appresta a parare la cannonata di Lenders. E Price para! È veramente forte. Devo riuscire ad essere una frazione di secondo più veloce di Price. Un'altra parata dell'eccezionale portiere della New Team su un tiro di Lenders stavolta dall'interno dell'aereo. Fermati, Benji! È il tiro fortissimo di Lenders e sta spingendo Price verso l'interno della sua stessa porta. Bene! Stavolta è fatta! Che cosa? Price è riuscito a mantenere all'esterno il pallone! La Mappet che aveva sperato in un pareggio è rimasta delusa mentre la New Team si stringe attorno al suo imbattibile portiere. Bravo, Benji! Bravo! E viva! E viva, Benji! E viva! Bravo, Benji! Sei il più forte! Come sempre il portiere della New Team Benji Price è stato davvero fantastico ed estremamente abile a mantenere all'esterno della porta il pallone. Inoltre ricordo che questo è stato il primo tiro di Lenders fatto dall'interno dell'area di rigore. Ehi, Mark! Mi dispiace molto che non sei riuscito a segnare neanche stavolta. Ascoltate! Non importa quello che è successo. La cosa più importante per noi è vincere, giusto? Certo, Capitano! Bene! Per vincere però bisogna lasciare da parte i rancori personali e cercare in tutti i modi di fare più gol possibili. Quindi adesso devo smetterla di cercare di battere Hutton per conquistare il posto alla Toe School. E devo anche finirla di provare a segnare a tutti i costi delle reti improbabili da fuori area. Con Benji Price me la vedrò in un altro momento. Bene, Mark! Dobbiamo rovesciare la situazione e vincere! È sempre stato questo l'obiettivo della Muppet! Certo! E ci riusciremo di sicuro! Ma sì! Faremo a pezzi la New Team! Siamo noi più bravi e nessuno potrà batterci! Saremo noi a vincere! Sì! Saremo il campeonato! Forza, Lenders! Forza, Mark! Forza, Mark! Dai, Lenders! Vedrai che la prossima volta farai 100! Sei tu il migliore e quindi non puoi perdere, Mark! Saremo ancora! Hutton, la vera partita comincia adesso! Hai sbagliato ancora, Lenders! Rilancio del portiere della New Team Benji Price! Questa partita è veramente molto emozionante e nonostante la New Team sia in vantaggio per un gol a zero la Muppet non si arrende e continua ad attaccare ma non sarà certo facile per la squadra di Lenders superare uno scoglio così forte e sicuro come Benji Price il portiere paradutto della New Team! Prefondazione Per un'altra la Muppet che ci ha presa per un'altra